Più passano le ore, più appare evidente che la crisi idrica che ha colpito Campobasso faccia il paio con la cattiva amministrazione che sembra esserci alla base. Oltre alle falle nei tubi e nei condotti, emergono altre falle di carattere politico-amministrativo che vanno a finire dritte dritte alla mancata manutenzione della rete nel corso degli anni, ad evidenziare le responsabilità pregresse e il capogruppo di Forza Italia al comune di Campobasso, Domenico Esposito. Non è un problema di captazione, se anche diminuita, perché Molise Acque, che garantisce dal punto delle sorgenti, da Rio Freddo in modo particolare ai serbatoi, l'afflusso d'acqua, seppur diminuito da 2.800 litri l'ora a 1.800 litri, il problema è un altro che dai serbatoi ai rubinetti delle nostre case, ogni 10 litri vanno persi circa 7 litri per strada. Allora l'emergenza è di riparare la tubazione vetusta e rovinosamente rovinata, se così si può dire. E chiaramente la Grim ha una competenza dai serbatoi alle utenze. La domanda è semplice, perché non si è chiesto per tempo alla Grim quali sono le emergenze da dover attenzionare. In questi 30 anni di politica della nostra città a trazione centrosinistra, mi chiedo e mi domando quali sono state le iniziative, le programmazioni, il tentativo di intercettare risorse per riparare la rete idrica. Sul tema interviene anche il presidente della regione, Francesco Roberti. A Campobasso c'è una dispersione di oltre il 60% del flusso idrico, dice, poi aggiunge, non è una questione di campanile, il problema non è l'acqua che diamo agli altri ma quella che perdiamo noi. Ringrazio il consigliere Sabusco che mi ha prontamente informato sulla situazione idrica di Campobasso, cercheremo di dare una mano al sindaco di Campobasso che si è ritrovato una brutta patata bollente per le mani perché purtroppo il comune di Campobasso è un comune non virtuoso. Campobasso ha una dispersione idrica pari al 66% e questo vuol dire che le reti idriche di Campobasso, al di là della crisi idrica che attanaglia tutta l'Italia ma il globo intero, se gli diamo un litro d'acqua e il 60% va a essere non utilizzato dalla collettività, vuol dire che bisognava, non in un anno, in tanti anni, come è successo per altri comuni, più virtuosi, che in un arco di 20-25 anni le reti idriche sono state rimesse e adeguate a quelle che oggi sono gli standard ma soprattutto hanno avuto una pianificazione e un'attenta progettazione per risolvere queste problematiche.